Abbiamo avuto una lunga emergenza causata da un danno che si è stato all'interno dell'Acquedotto per cui giustamente i cittadini hanno subito dei disagi e subiranno anche i disagi domani mattina per tutto il giorno non sarà erogata l'acqua in quanto dobbiamo completare l'opera che era stata iniziata circa 15 giorni fa cioè metteremo un nuovo tubo all'interno dell'Acquedotto e questo consentirà di l'erogazione continua e mi auguro definitiva in quella zona della città, la zona Macara che ha subito notevoli disagi e quindi invitiamo i cittadini ad organizzarsi nelle proprie case riempendo i recipienti utili per la giornata di domani di quattresì che nel piano annuale delle opere pubbliche è stato approvato un progetto che raddoppia la portata dell'acqua che va da Santa Nicola fino al centro della città, quindi parliamo di circa 4 chilometri e mezzo di una nuova condotta idrica per una spesa di circa 900 mila euro. Questo consentirà un maggior afflusso di acqua, un'erogazione di acqua nella città di Mazzara del Vallo.